E' inarrestabile la marcia della BLS Chieti, non è bastato il turno di riposo a mettere fuori ritmo la squadra di Domenico Sorgentone, non sono bastati gli acciacchi di alcuni elementi a indebolirne l'efficienza. Ci ha provato il teatino Giorgio Salvemini con la sua torre, che al Palasanta Filomena arrivava forte di un grande entusiasmo e di una striscia di sette vittorie consecutive. Ma la partita in sostanza non ha avuto discussioni, se non nei primi minuti. Sorgentone parte con un quintetto basso, Gallerini non è al massimo e allora a trio di esterni Raiola, Musso, Gialloreto. Assente Carpinetti, Torre con l'acciacato Bigi nello starting five, sotto Porfido e Lex Peruzzo. Buona la sua partita da 14 punti e 22 di valutazione in 31 minuti. L'inizio della capolista è sonnolento, Torre entra meglio nel match e si porta sul 12-8 grazie alle conclusioni di Porfido e ai siluri dalla distanza di Antonello Giordano. 12 punti, 3 assist ma 3 su 9 dal campo per la guardia pescarese. Ma quando Chieti si sveglia sono dolori. A suonare la carica è Fabrizio Gialloreto, l'enfantio Pai aggiusta la mira e scardina dall'arco la difesa torrese. 19 punti con 5 su 8 da 3 per il play guardia. Lo segue Roberto Marconato e la migliore prestazione stagionale dell'ex centro di Atri. Doppia doppia da 20 punti, 10 rimbalzi, 7 su 12 dal campo, 30 di valutazione. Chieti domina con i lunghi. In doppia doppia anche Picchio Feliciangeli, 19 punti, 13 rimbalzi, anche per lui 30 di valutazione. La BLS piazza un parzialone di 19 a 0 che porta il risultato sul 27 a 12 che Torre prova vanamente a limare prima dell'intervallo. Risultato in ghiacci in una terza frazione nella quale arriva l'ultimo strattone, parziale da 22 a 10 per il più 26 del trentesimo, 68 a 42. Garbage time nell'ultimo quarto davanti ai circa 800 spettatori presenti nell'impianto teatino fino all'84 a 62. Dei rimarcare anche la doppia doppia di Raiola, 10 punti e 10 assist per Torre, 9 punti di Bigi, Savini e Porfido, 5 del teatino Brandi Marte. Male l'altro ex Castelluccia, 0 punti in 22 minuti. Chieti resta saldamente in vetta alla classifica, Torre dei Passeri sempre in piena zona playoff. La sconfitta non macchia la splendida stagione dei ragazzi di Salvemini.